I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e il personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione a tre misure cautelari degli arresti domiciliari emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di Dario Latela, Carolina Caiazzo e Daniele Caruso e a numerosi decreti di perquisizione. I destinatari della misura cautelare sono accusati di associazione per delinquere finalizzata la truffa aggravata in danno dello Stato e altri gravi reati commessi in relazione alle procedure per il reclutamento nel 2016 di 400 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi sulla divulgazione di materiale concorsuale riservato ad opera di un soggetto legato da rapporti di lavoro alla Intesistemi S.p.A. di Roma, la società che si era giudicata all'appalto per l'elaborazione, la stampa e la fornitura dei questionari da utilizzare per la prova scritta, tenuta a Roma dal 20 al 22 aprile 2016. I destinatari dei provvedimenti, come le persone già colpite da misura restrittiva il 17 ottobre 2018 e altri loro stretti collaboratori, avrebbero poi venduto questo materiale a un numero consistente di candidati. Alcuni concorrenti erano stati scoperti durante lo svolgimento della prova scritta con sistemi di comunicazione a distanza, cover di telefonini, braccialetti che riproducevano le sequenze di risposte esatte ai questionari e t-shirt sulle quali erano state impresse risposte esatte sotto forma di simboli matematici. Il quadro indiziario, ritenuto dal giudice idoneo all'adozione dei provvedimenti oggi eseguiti, dovrà naturalmente ricevere la conferma dal contraddittorio già nella fase cautelare. Sono stati poi eseguiti due decreti di sequestro preventivo di un autoveicolo Hammer e di uno scooter di grossa cilindrata che si ritiene siano stati acquistati con i proventi delle attività delittuose contestate oggi.